Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo che vi porto oggi è un funny glitch ragazzi un funny glitch giusto per cazzeggiare per trollare un po' qualcuno allora per fare questo glitch in pratica dovete diventare CEO una volta che siete diventati CEO andate in vestiti, mettete uno qualunque una volta che avete messo i vestiti dovete andare in inventario e richiedere l'attrezzatura balistica ragazzi quindi aspettate che vi arrivi l'attrezzatura balistica aspettiamo un attimino che l'aereo butta giù sta cazzo l'attrezzatura questo glitch ragazzi è diciamo un glitchetto per trollare qualche amico giusto per cazzeggiare non è una good mod ma è un glitch per trollare perché vedrete fra poco in pratica avrete gli stessi poteri dello juggernaut ma senza balistica quindi quando avete preso la balistica ragazzi l'unica cosa che dovete fare è sciogliere il sicuro serve dovete ritirarvi da cielo automaticamente vi scomparirà l'armatura da juggernaut ma vi rimarranno i poteri del juggernaut o meglio avrete la minigun non potrete cambiare assolutamente arma sarete goffi come il juggernaut ma senza senza tuta e avrete la stessa resistenza del juggernaut come state vedendo la polizia mi spara ma non diciamo ne fa una ben amata sega come se avessi l'armatura questo ovviamente non dura in eterno dura per il tempo che durerebbe l'armatura del juggernaut è solamente un funny glitch giusto per cazzeggiare magari vi ad un amico gli dici che ne so oh via qua guarda che te faccio vedere magari stai lì capito quello te spara all'infinito e te gli apri il culo per dritto e per ovescio insomma per capire è giusto un funny glitch per cazzeggiare non è una good mod quindi non vi credete che dura tutta quanta la sessione in eterno e nulla ragazzi spero che userete questo funny glitch per trollare qualcuno e farvi una risata con l'amico detto questo un saluto a tutti rimanete fino alla fine del video un saluto al prossimo video ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501